Ciao a tutti, oggi vi presento BARD, l'intelligenza artificiale di Google. BARD è un modello linguistico di grandi dimensioni, addestrato su un enorme set di dati, di testo e codice. Questo significa che BARD può generare testo, tradurre lingue, scrivere diversi tipi di contenuti creativi e rispondere alle tue domande in modo informativo, proprio come fa ChatGTP. E devo dire che BARD è già ad un ottimo livello. Ecco alcune delle cose che BARD può fare. Generare testo. BARD può generare testo in vari stili e formati, come poesie, codice, script, brani musicali, email, lettere, ecc. Ti aiuterà a completare i tuoi compiti in modo creativo e produttivo. Tradurre le lingue. BARD può tradurre tra oltre 100 lingue, il che lo rende uno strumento prezioso per la comunicazione internazionale. Scrivere diversi tipi di contenuti creativi. BARD può scrivere diversi tipi di contenuti creativi, come poesie, storie, script, brani musicali, email, lettere, ecc. Ti aiuterà ad esprimerti in modo creativo ed originale. Rispondere alle tue domande in modo informativo. BARD può rispondere alle tue domande in modo informativo. Anche se sono aperte, impegnative o strane. Ti aiuterà a imparare cose nuove e a capire meglio il mondo che ti circonda. BARD è ancora in fase di sviluppo, ma sta già imparando a svolgere molti tipi di attività. Sono entusiasta di vedere cosa potrà fare in futuro. E ragazzi, anche questo testo è stato scritto da BARD. Se vuoi saperne di più su BARD, visita il sito di Google.ai. Ma mettiamolo alla prova. Allora, sono andato su BARD e ho chiesto... Ok. Pianifica un calendario? E crea un planning. Ho chiesto... BARD, scrivi un piano editoriale per i social media? Ecco la risposta, certo. Ecco un piano editoriale per i social media. È l'azienda di e-commerce che vende prodotti di bellezza. Obiettivo, aumentare la consapevolezza del marchio e generare vendite. Pubblico di destinazione, donne di età compresa tra i 25 e i 45 anni che sono interessate alla bellezza e alla cura della persona. E niente, come potete vedere, ci sono poi i canali social, la frequenza di pubblicazione, i contenuti. BARD ha realizzato un piano editoriale. Poi successivamente ho chiesto di creare un planning col calendario. Dopo avermi descritto i contenuti dei post, mi ha pianificato le settimane. Come potete vedere, settimana 1, lunedì. Post di prodotto su Facebook e Instagram. Il nostro nuovo mascara allunga e incurva le ciglia per un look da favola. E via dicendo, martedì, mercoledì, giovedì, BARD ha pensato a tutta la settimana. Ha creato un piano editoriale completo. Questa è la potenza dell'intelligenza artificiale applicabile al marketing online. L'unico limite è la vostra creatività e la qualità delle domande che gli farete. Se per caso sei interessato al marketing, ti consiglio di dare un'occhiata su Amazon al romanzo Il massimo esperto di marketing. Un romanzo scritto con parole facili e semplici che ti insegnerà i fondamentali del marketing tramite una storiella. Per oggi è tutto ragazzi, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao!